Ciao a tutti, sono Ciccio, sono nuovo arrivato, non so quanti mesi, forse ho 4-5 mesi, sono maschietto e amo morsicare la mano di mia mamma, amo mio fratello, giochiamo ogni tanto, però ogni tanto ci li diamo, i miei occhi sono gelesti, il mio viso è biondino e sono pieno di, di, di strisce e di, e di, e di palline. Mi piace stare sul letto, mi piace mordere la mano della mia mamma, mi piace mangiare tutto, amo il latte e sono piccolino, ecco qua, saluta mamma, ciao dolcissimi dolcissimi, mi piace il mio Ciccio? Sì mamma, ti piaccio perché sono piccolino e quando crescerò diventerò un cistone, aiii! E noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao!